... Out, tentativo di Allegretti 9-6 si va al cambio di campo ci si incrocia sotto rete ricordando che Silvia Costantini e Eleonora Cini fanno coppia fissa nel Beach Project con Simone Di Tommaso e Francesco Montinaro responsabili si trovano adesso l'una contro l'altra Leonardo eccole nella sfida l'una contro l'altra la spunta Eleonora Cini stavolta 7-9 colpo che finisce fuori tutto vale ragazzi in bianco attenzione 10-7 8-10 vincente Silvia Lenardi 11-8 la pretendente al trono adesso al servizio con la pinotto De Constantini c'è il time out e allora anche noi proviamo a farci sentire dal pubblico che è a casa che ci sta guardando e allora cari amici proviamo a tirare su le mani sopra le nostre teste e a andare a tempo tutta l'arena facciamoci vedere facciamoci vedere dal pubblico a casa ci sta guardando tutta Italia su le mani sopra le vostre teste facciamoci vedere il cuore di Porto San Giorgio su le mani per tutta Italia abbiamo la spinta per questa finale arriva il ritornello il cuore solo su le mani si torna in campo con l'applauso più forte di Porto San Giorgio signor Ardi 13-8 a due punti dal titolo è out tentativo di Eleonora Gini attenzione cari amici prima palla match prima palla che vale una corona e Eleonora Gini 9-14 il pallone finisce out e finisce anche la finale la regina 2017 è Silvia Eleonora l'applauso della vince arena per la nuova regina Silvia Eleonora che viene a lanciare la sua canotta insieme alla sua scudiera Silvia Dostantini e così la vice regina Jessica Lele Allegretti e la sua scudiera Lannora Gini grazie a tutti